Io in campagna, ci sono i pro e i contro, vivere in città ci sono le meraviglie della città perché Cosenza è diventata una città molto bella. La città è bella d'inverno, la campagna ecco da primavera in poi è piacevole, io solitamente faccio otto mesi qui e gli altri quattro fra campagna e mare. Io personalmente vivrei in città perché mi piace la solitudine fino a un certo punto, quindi dopo un po' quasi impazzisco e devo stare con le persone e quindi la città mi aiuta anche con i rumori e le cose del genere. Aspetti positivi e negativi in pratica sia l'uno che l'altro, la città offre più servizi, la campagna sulla carta dovrebbe essere per alcuni aspetti migliore ma ripeto, scegliere città. Per me è in campagna, il motivo è che sono stato sempre in città e potrei provare un'altra vita in campagna, non lo so come sarà però penso che fosse meglio. Assolutamente la città. La città è più comoda, io sono in bici, vado in bici, cammino tranquillamente, non si inquina l'ambiente e poi la nostra città Cosenza è diventata bellissima, quindi è molto meglio la città. Io, sinceramente, campagna, perché c'è più tranquillità. A chi piace in città, altro piace in campagna, secondo me, secondo me. Prima, quando ero giovane, mi piaceva in città, ora mi piace in campagna. Magari in campagna, è meno stress, è un livello di vita pure più salutare. Ma la vita di città è bella, è più frenetica, però in campagna c'è aria pura, come si suol dire. E mi piacerebbe anche vivere in campagna. In campagna c'è l'aria migliore, si sta più qui, c'è più serenità, in città c'è troppo chiasso. Ma sicuramente preferisco la campagna, amo la natura. Qui vedo che la città è piena di cemento, personalmente, avrei preferito un po' più natura. Secondo me è meglio in città, perché diciamo che la città è più dinamica, puoi muoverti meglio, c'è tutto a portata di mano, periferia è un po' più difficile. Tutti e due hanno degli aspetti positivi, in campagna si respira l'aria buona, se uno ha un pezzettino di orto può coltivarsi qualcosa, in città ci sono tante altre comunità, servizi, si ha più modo di incontrare gente. Ci sono i pro e i contro in tutte e due le cose. In città c'è la questione del traffico dell'isola pedonale, non si possono raggiungere tutti i luoghi e in campagna si è un po' isolato.